I freni della Volkswagen che ha investito e ucciso il piccolo Tommaso funzionavano perfettamente e quindi la causa della tragedia è probabilmente un errore umano. A stabilirlo è stata la perizia voluta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. L'auto, parcheggiata nel cortile di una scuola materna del capoluogo abruzzese il 18 maggio scorso, si era sfrenata in discesa, prendendo velocità e arrivando a sfondare la recinzione del giardino investendo un gruppo di bambini, tra cui Tommaso, di 4 anni, morto a seguito dell'impatto. Il perito nominato dalla Procura e quello della donna proprietaria dell'auto, attualmente indagata per omicidio stradale, non hanno riscontrato nessuna anomalia del sistema frenante. Stessa cosa riguardo la centralina elettronica. Il freno a mano di quel modello di automobile infatti è elettrico e si attiva tramite pulsante. Ciò confermerebbe quanto ammesso dalla 37enne durante l'interrogatorio, ovvero che si sarebbe dimenticata di inserire il freno. La donna stava recuperando le sue due figlie gemelle all'uscita da scuola, mentre il figlio maggiore, un dodicenne, rimasto in auto, secondo gli investigatori ha forse mosso per errore la marcia che teneva bloccato il veicolo. I tentativi della donna di bloccare la macchina a mani nude non sono valsi a nulla. Buone notizie intanto arrivano dall'ospedale. Altri due bimbi coinvolti nell'incidente infatti sono stati dimessi e hanno lasciato il nosocomio. Sono quattro ormai piccoli fuori pericolo, visto che altri due gemellini meno gravi erano stati già dimessi lo scorso 23 maggio. Resta ricoverata solo la bimba di quattro anni che aveva riportato una frattura al cranio.